20 gennaio 2024. Madonna di Anguera. Oscurità verrà sulla casa di Dio. Un uccello pericoloso fuggirà dall'aquila. Nel silenzio di un momento di preghiera e riflessione ci immergiamo nelle parole avvolgenti di un messaggio divino proveniente dalla Santissima Vergine Maria. Le dolci note di una presenza materna si fondono con la luce celeste, portando con sé un invito alla conversione e alla fede sincera. È come se le porte del cielo si fossero socchiuse, rivelando un messaggio di amore e avvertimento, trasportato attraverso la voce materna di colei che ama incondizionatamente. Scopriamo insieme le parole che ci guidano, ci esortano e ci invitano a essere vigili nell'abbracciare la verità. Leggiamo il messaggio. Cari figli, vi amo e sono venuto dal cielo per chiamarvi alla conversione sincera. Siate docili alla mia chiamata. Curate la vostra vita spirituale e siate come Gesù in tutto. Conosco ciascuno di voi per nome e pregherò il mio Gesù per voi. Un'oscurità fitta verrà sulla casa di Dio. Un uccello pericoloso fuggirà dall'aquila. Siate vigili. Non permettete che nulla vi allontani dalla verità. Fatevi coraggio. Il domani sarà migliore per gli uomini e le donne di fede. Qualunque cosa accada non allontanatevi da Gesù e dalla sua vera chiesa. Datemi le vostre mani e vi condurrò su un sentiero sicuro. Avanti in difesa della verità. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Andate in pace. Grazie per avermi permesso. Grazie per avermi permesso.